Sì, mi è arrivato Babbo Natale, guarda che ti ho portato. Che mi hai regalato? Ti ho fatto la scuffia, il transistor e i nastri di Claudio Villa. Mi piace. A te papà ti ha fatto occhiali a quello specchio. Grazie. E a te ti ho comprato un culore arcobaleno. È pieno di colori. Ci ha rovinato la sorpresa. No, no, mi sono rovinato proprio io. Quale sorpresa? A tuo madre ho speso 120 mila lire. A Mario 80 mila lire. A te mi ha detto a commessa che la signora sua ha la quarta misura 160. Dico no, c'è la settima. C'è allora 216 mila lire. Hai capito quanto ho speso? Artù, quanto sei delicato.